Incidente sul lavoro nella retina in una ditta del settore Orafo che si trova nella zona industriale di San Zeno, alle porte della città. È accaduto intorno alle 15 e è esploso per causa in corso di accertamento una tanica di acido cloridrico. Tre gli operai che sono stati soccorsi dai mezzi dell'emergenza urgenza dell'ASL Toscana Sud-Est con Misericordia e Croce Bianca. I tre, due ragazzi di 24 e 26 anni e una ragazza di 19 sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Avrebbero riportato ustioni al viso e agli arti superiori. È stato attivato anche il protocollo per le maxi emergenze. Arrivati sul posto anche i vigi del fuoco del comando aretino e personale della questura di Arezzo. Per la ricostruzione dei fatti indagano proprio i vigi del fuoco sul posto anche i tecnici ASL del Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro.